Ciao, oggi a Richesa facciamo l'analisi di Messis. A guardare i bilanci non mi fa impazzire, non eccelle in praticamente niente, ha fatturati in calo, profitti loro di utili netti stagnanti da 4 anni a questa parte, ma come asset almeno non è totalmente sbilanciata verso l'indebitamento. Come tante altre società di questo settore, tirate tutte le somme di fine anno, non ha un gran bell'utile, e questo sai che per me è molto importante perché i soldoni veri si vedono con gli utili netti i flussi di cassa, e se non ne hai o se ne hai molto pochi, alla lunga il mercato non riconosce il vero valore della società. Per quanto riguarda il prezzo, quello che sta quotando in questo momento a parer mio è più che giusto, a guardare i bilanci per il momento mi sembra una società che non vuole prendere una direzione ben precisa, quindi io per il momento ci rimarrei alla larga. Ora se vuoi il mio indicatore ti lascio il link in descrizione, ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!